Musica Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Anteprima Cinema a cura di Film is Now! Prenderà il via il prossimo 21 maggio L'Umbertide, una nuova rassegna cinematografica interamente dedicata al genere horror. Il festival è organizzato dall'associazione Effetto Cinema e avrà luogo ad Umbertide, in provincia di Perugia. L'iniziativa punta a recuperare lo spazio che questo genere vantava nel cinema italiano fino a dieci anni fa e a valorizzare le nuove generazioni di registi. Inoltre L'Umbertide darà spazio a pellicole di successo internazionale, proiettando, tra le altre, la città verrà distrutta all'alba di Giorgio Romero. Vediamo insieme le nuove uscite non video. La prima cosa bella di Virzi, Amelia con Hilary Swank e Single Man di Tom Ford, il quarto tipo con Mila Jovovich, gli abbracci spezzati di Almodovar con Penelope Cruz e infine il film di animazione Piovono Polpette. Dopo Eclipse, ultimo episodio della saga di Twilight, Kristen Stewart torna sul set con On The Road. Numerosi tentativi di realizzare il film tratto dall'omonimo romanzo di Kerouac. Il primo ad interessarsene fu Frances For Coppola, seguito da Gus Van Sant, ma entrambi non riuscirono a portare a termine il progetto. Alla fine ce l'ha fatta Walter Sayles, che nel cast, a fianco di Kristen Stewart, ha schierato Sam Rayleigh e Garrett Hedlund. E per oggi è tutto, vediamo insieme il trailer! Il primo ad si ha fatto questo è l'ambitante, è un'ambitante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.